E comunque ripeto lo repito migliore del 5 quindi Mi sto alterando adesso Un colpo alla testa Sì lo vedo mi ha sparato col mitraglione Eccolo Indebolito un po' sono in due sono in due Sì Ah l'aereo perifro Che shot si è preso Eh frazzi è più forte di noi accettiamolo Non piangiamo Io lo gaserei Questa qua la faccio vedere a tutti i miei amici cioè nessuno Salve a tutti ragazzi e bentornati nuovamente qui sul mio canale Come potete vedere anche quest'oggi torniamo con un video dedicato a Battlefield 2042 O più nello specifico un estratto live preso da una live su Twitch A differenza di altri gameplay che vi sto portando Che come ho sempre detto sono sempre stati live presi da Twitch Perché non ho più tempo per mettermi lì a registrare Ci discostiamo un po' dal classico gameplay dove tra virgolette si gioca tranquillamente Più per il gameplay vero e proprio che per altro Perché questa volta diciamo il gameplay è un po' più tirato Un po' più divertente ai limiti del ban Quindi senza perdere ulteriore tempo io spero che questo video vi possa piacere Mi raccomando seguitemi in diretta anche su Twitch C'è il link in descrizione Ma in descrizione non trovate solamente il link dedicato al mio canale Twitch Ma anche quello del canale YouTube di AlenXBreakdown Mi raccomando fateci un salto Spero che questo video vi possa piacere Vi lascio al gameplay No rinascita sfondamente C'è il problema di raga quasi Quasi sclera Quasi io ve lo dico eh Io ve lo dico No il cane che mi sparo il drone no però Ancora con Caspers Ho dichiarato un ceffone questa sera Guarda quel Lo ti beggo? Oh, grandi ragazzi che mi fate un bot di assist Un attimo sto ricaricando Vai, spotta, spotta che ti lichigliamo noi, vai Guarda quel Oh, guarda questo qua Stengo in mezzo tritato Comunque dai, mi sa che prossima settimana mi compro Volevo provare a Battlefield 3 sul computer Volevo provare, magari lo como Però se non risolvo quella roba del punkbuster Che non so come si fa, non mi fa giocare online Devo seguirmi nella guida su YouTube, che due coglioni Cioè voi ditemi ragazzi quale gioco malato ti mette contro In una malità 64 Sia l'elicottero da tank e il condor Pio caro Su rinascita poi, capito Ragazzi io vi guardo, va bene? E io vi guardo dall'alto, sono il vostro angelo custode Perché? Perché guarda ti giuro È così rilassante girare contro Guarda quanti ce ne sono Spotta me li farà, spotta me li Sono sul ping, sul porto, ci sono 5 persone su sto ping Ragazzi Non lo riesco a vedere Doppia Devo caricare C'è gente qua su ping verde A destra ragazzi Comunque raga io, a parte gli scherzi, sto gioco non lo trovo così malvagio Cioè, quando le cose vanno bene il gioco mi fa divertire pure E comunque ripeto, lo ripeto migliore del 5 quindi In ogni caso per me, comunque è andato sto gioco, è una vittoria Non mi sento di aver buttato soldi Fino a un certo punto Aveva tirato il C5 bro, guardalo L'ho disinnescato Ma è un beacon ragazzi Qua dove c'è il ping È dietro, sotto Ma quella non è Dice che mi ha ucciso un'arma, ma io sono esploso Oh, ma cos'è raga? Che esplodo da dietro Sono one shot Dai cura, figa Quanto ci Dio caro, lento Siete da soli Siete soli, non avete più Una vulva Va bene, va bene, va bene Facciamo che devo aumentare la sicilità sul 6pepper che questo qua lo smirà E non mi da 3 yard che sto vedendo Ma come cazzo vuoi uccidermi? Guarda il mio corpo Ma, ma trapassato da ro... Ma, guarda, dov'è il mio corpo? Lo sfarro Minchia, minchia, quant'è gente Ma, ho dato un colpo il DS9 Mi sto alterando adesso Un colpo la testa Io do gli stessi colpi come l'N50 Caro, da sulla destra, occhio, eh Oh, tasto, ho speso il tasto Se non mi fa nessuno, vado Tirano io, bro Ho curato lui No, Condor, morto, morto Adesso tirare le cannonate qua Ok, il carro esplode Sto lanciando una granata Devo fare danni con queste granate, ma Non l'ho tirato Le curi, oh Il nemico non si muove Sto ricaricando Tieni, bro, tieniti Ci sono io, ci sono io E mi scavalla pure le reanimazioni Occhio lì dietro, raga, ce n'è uno Eccolo Ti pusha, le Preso No, ma ce n'è un altro, eh Un po' dietro Sì, lo vedo, mi ha sparato col mitraglione Eccolo Indebolito un po', sono in due, sono in due Sì Ah, l'aereo per i frollini Occhio che torna, eh Sta tornando l'elicottero lì Quando uno è frollino C'è poco da fare Basta camperare Che non siamo su Call of Duty O beh, odio più o meno Cambio solo il nome Occhio al condo Sento passi Ah, bro, tieniti, tieniti, carrivo, tieniti C'è un carro, ragazzi Ma questo è un di principio, mi ha reanimato tipo tre volte adesso Chi è, chi è? Ci voleva tanto? Un altro? Lì dietro ce n'è uno Preso Uno lì dietro, one shot Oh, minchia Che shot si è preso Era one shot però, eh Bello shot Questo mi è caduto proprio davanti Godo Quanta gente c'è là dietro Quanta gente c'è qua in mezzo alla gula qui Alleato colpito Minchia, l'aleato era spottato, eh Non vorrei dirtelo Quanti game ho quitato qua in fase d'attacco perché non riuscivi a passare Morto così Oh, mica, adesso era un veicolo, eh Il... Non moro Ah, ma perché non ha la pelle di cu... Ok, ho capito Cazzo, ma è nemico quel veicolo? Eh, morti Morti, morti, via Morto così, va bene Non gli è arrivato il colpo Bravi Così si gioca Un attimo No, raga Mi ha fatto ancora quella roba Però l'ho killato dopo Nel senso Gli ho dato un colpo Ho visto il sangue uscire Ma non... Il danno non me l'aveva conteggiato Un nemico in meno Minchia, quanta gente ce l'ha Ma non ci vedevo un cazzo Non lo vedevo Peggi di Batte Fil 5, quello che ho appena visto Peggi di Batte Fil 5, minchia Ce ne vuole, eh C'è gente sdraiata dappertutto, occhio di me Ma questi pensano di stare su Batte Fil 5 e... E hanno ragione, secondo te, eh Però l'ha chiesto da sopra A scuzzarlo, com'è Ci sono passato vicino a uno Che era No, eh Che tronconi, però, eh C'è il bello che uno Di là della squadra nemica 26-0 sta facendo Non è quello sul Condor No, no No, assolutamente Sto usando le armi Le armi sto usando Granata, beccami qualcuno Che io devo fare sta sfida di merda Per cortesia Minchia, è passato un carro Raga, l'avete scopato in un secondo Ma... Pazzi Dov'è questo? Ma dove è uscito? Molti non sarebbero d'accordo Mentre stavo sparando a un tizio sdraiato Mi ha fatto il bug Che si è incippato il fucile Cazzo, siamo su Arma 5 28-2 comunque Goloso No, dovrebbe contarmi la seconda morte No, ma chillata alla fine Non me la conteggio Questo vuole la guerra Vuole la guerra, fra Certo No, ma un altro ancora Dai ragazzi Sono sempre degli affamati Quelli sull'elicottero Occhio che qua davanti c'è gente, eh Ma chi spara questo? Se fosse un ping, figa Eccolo Sì, ma sono in tre, fra Davanti a me Davanti a me, fra Davanti a me Ho fatto uno Non vedo il terzo L'ha rianimato Sono lì, fra Sono lì Un colpo, ok Ha il corpo, eh Sia chiaro E ancora una volta La visibilità Visto un cazzo Che è un cazzo Su sta mappa di merda Non so come fate a dire Bella mappa Di mezzo c'è ancora gente Comunque, non ti fidare Eh, come l'ha spottato Godo Gioco traditore Danni di la verità Hai aperto questa live Sperando fosse Fall Guys Secondo me si è No dai Non puoi essere così Stupido ragazzo Cosa convini Vai via Sembra un game Su Battlefield 5 Firestorm Uh, e questo? Godo Minchia Ti scopo pure Va Quello cazzo Ne si fa salire qua Non so Con il tasto X Non so se Cioè questo a noi voleva Cioè tutti quelli che c'erano Innoscom Godot Oh ma quanti cazzoni Ma quanti cazzoni ci sono con Sundance Che si gettano giusto Lo diure per fare la kill a 1 Ti sicuro eh Per me si Perché l'hai fatta E volevo tornare a rifarti secondo me Eh che mori però Se tu devi arrivare una terza volta E ci ti bega questo Ti deve fare a me da sfigati, gettarsi sopra uno così per fare la kill, la sfigata Eh, ma è l'obiettivo, è l'obiettivo del gioco Ce n'è una lì, occhio Preso un po', preso Guardiamo, eh? Se farei così salirei qua, esatto Rischioso però, eh No, no, ma... Ragazzi, mi credete che sono andato a beccare l'unico alleato Che non sa giocare con l'elicottero Eh, a posto di farmare kill su fanteria Eh, che fa di bello Se so faitare gli elicotteri Goloso Vabbè, il più onesto però è quello che dovrebbe fare un elicotterista Invece che tritare solo la fanteria e pensare di avere il cazzo lungo Tu sei sceso mica? No, ancora no, sono sul bordo Vedi, comunque, danni in chat e mascherito sì Voleva vedere Fall Guys, voleva vedere God, vai giù Essere inferiore a Abietto Abietto No, scherzo, è solo un modo per essere simpatico Vedi, vedi No, no, c'erò un altro Tieniti, Ali, tieniti, dove sei? Io sono qua, dovrei essere al sicuro A meno che non esca uno all'improvviso, eh Da qua o da qua No, no, è pieno, ragazzi No, è pieno, è pieno, è pieno C'era il fumaggio e non ho visto un cazzo L'ho preso! No, che culo Hai vol tre per Occhio, è proprio qui dietro, eh Ok, JTaz ti arriva C'era il fumogeno e ho detto No, sul libro, sul libro svanisce il fumogeno Era pieno Eh, vabbè, dai No, c'è l'elicottero di merda Ma vattene, figa Sto cazzo di... God, ho trombato Sulla obiettivo, raga Sulla obiettivo, raga Sono sdraiati Oh, doppia di granata Golosa Mi serve per la sfida L'avete killato? Sì, ma c'è ancora l'elicottero che caga la minchia, però Cura, cura, muoviti Eh, frazze, è più forte di noi Accettiamolo Non piangiamo Oh no, Ale, è più forte di noi, vero? Tirato, tirato Vediamo se killo Preso Doppia Minchia, che call Che call C'è gente dentro al suo fumogeno Guarda che rianimo l'alleato Sennò mi da del codaru di merda, vai Preso uno Preso due Anche da dietro vi arrivano, ragazzi C'è un po' di gente dietro Ma dietro... Dai, 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 muoviti, muoviti Ma l'ho visto, eh, l'ho visto È sdraiato lì che mira il mio corpo Non uscirò lì Non riesco a farlo, quello là dietro Tieniti, fra, tieniti Vai Non si vedono più le granate ormai Ci sono le icone piccole Come il cazzo di quelli che usano l'elicottero, cioè Minchia, così piccolo, eh C'è per farti un paragone, eh Porcai Eh, no, no, è proprio azzeccato Cioè, io sono d'accordo che Le misure non sono importanti Ma questo è proprio un micropena Eh beh L'elicottero lì continua a farmarsi Un botto di kill, comunque Ma è forte Ditegli che è forte Che semmeno si gasa un po' Io lo gaserei No, no, no Nel senso No, no No, no Lo gaserei nel senso Di complimenti, capito Così Ah, così Sì Sì, dai Sono i giovani Il nostro futuro Sono, capito Perché ho 70 anni Per dire sta frase Io devo fare una cosa adesso Aspetta Una bella C5 Vediamo se killo qualcuno Godo Un'altra kill di granata Mi serve per la sfida Niente Là Là sopra Non ci sono più Mi sa Ho tirato granate Non ho colpito nessuno Quello però è mio Muoviti Eh, no È bravo Perché mi dici Che fa 37,8 È forte Fra, è forte È bravo No, no È bravo È bravo Poi si guarda E dice Minchia Guarda va Questa qua La faccio vedere A tutti i miei amici Cioè nessuno Minchia Questa Questa cosa che ho appena detto È più offensivo Di lo gaserei Cioè nel senso A vedere ste cose Mi sto Mi sto Veramente Incazzando Sono a vedere Sono morto tre volte Di fila Per tre persone Feternate Di due fro Di quello Un'elicottero Un insulso Pezzo di deficiente Che fino ha fatto Lancerazzi Eh, Dani Sto Cambiando un po' Robi Per non usare Sempre le stesse cose Vedi tipo granate Mai usate Piastra di warzone Mai usata Giusto per cambiare Un po', sai Ritorneranno Le kill Con il bazooka Però la ritorneranno Minchia Quanta gente morta là Eh, perché sono tutti qua davanti Quindi facciamo il giro Sì, ragazzi È tutto bene Minchia Quello tripla Di Oh Mi ha killati sei Fra l'alleato Sì, li ha killati tutti A me Li ha killati Contento Ali dopo questa affermazione Un millesimo di secondo Prima di me E poi io sono morto E l'ho rimasto vivo Vedi, vedi, vedi La granata È morta Abbato, bello Va, ma vengo pure A scoparti là sotto Guarda Ok Abbiamo gente su C1 Questo è stato bello Brava Raga, abbiamo gente su C1 Stanno prendendo l'obiett Vai, Falc Brava Bravissima Bravissima Falc Bravissima Mi rilei la kill Dammi la kill Legge i taz Dove arrivano i colpi Di questo Punto passi Nice Lui è dato due colpi Tra i nemici Ho fatto Lui è capito Finita 22-2 Io non riesco ad arrivare Più di ventesimo Ormai Ci sono tutti così I game Porco Dio Eh, ma Se qualcuno viene da me Mi dice che questo era Un game di conquista No No, fra Era un game Di Mantieni l'obiettivo Centrale Fine Solo lì si giocava Capito Io sono arrivato alto Di classifica Beh, odio, ottavo Ho fatto un botto Di rianimazioni Più che altro Arrivati a questo punto Ragazzi Spero che questo video Come ho detto già dall'intro Un po' diverso dal solito Su Battlefield 2042 Vi sia piaciuto Fatemi sapere Naturalmente che cosa ne pensate Io come sempre Vi ringrazio per tutto il supporto Ci vediamo al prossimo video